Hai capito, caro Rubio? Questi sono i matrimoni di oggi. E anche perché il rapporto uomo-donna è cambiato. Però attenzione, è giusto così. Eh sì, perché le cose cambiano. Io non sono un nostalgico del passato. Io i nostalgici non ne supporto. Pure durante questa quarantena sul web, ti è bello in avuto, si stava meglio quando si stava peggio, e macchine in avuto tutte più belle. La moda, sì che era moda. Stiamo facendo credere ai ragazzi di oggi, che prima era tutto meraviglioso e oggi è tutto una schifezza. Anche i giocattoli, e quelli che avevamo noi da piccoli, erano formativi e intelligenti. No come i giocattoli di oggi. I giocattoli intelligenti e formativi. Allora stasera spiego io ai ragazzi a casa quali erano questi giocattoli. Fra noi maschietti, tra i giocattoli più diffusi, c'erano i soldatini. Guardate qua, guardate. Erano delle sagome di plastica che stavano nel cassetto fermo dalla mattina alla sera per fatti loro. Se tu volevi giocare con loro, tu li dovevi prendere, tu li dovevi muovere, tu dovevi parlare, tu dovevi sparare la bocca. Praticamente non si capiva se i soldatini erano i tuoi giocattoli o se eri tu a pazziello dei soldatini. Per quanto riguarda le femminucce invece, uno dei giochi più in voga era il dolce forno. Ve l'ho ricordate? Era questo fornellino col quale le bambine imparavano a cucinare. Tra l'altro, se loro si divertivano a cucinare, purtroppo i maschietti dovevano assaggiare. E uscivano a volte certi biscotti che tu non sapevi se tua sorella aveva usato la farina oppure uccemento armato. Mi dovete credere, una volta mia sorella fece i biscotti danesi, papà, dopo averli assaggiati, ne ha preso una trentina e cambiò le briastrelle che te ne mi dà a cucinare. Se volete fare qualcosa di più tecnologico, c'era il trenino elettrico, il massimo dell'adrenalina. Anche perché variava tantissimo. Praticamente, una locomotiva e tre vagoni che facevano sempre lo stesso giro. E tu non c'hai mai con lo sguardo se guivi gioco per una misura, tenevi tutta la cervicale infiammata. Pensate, una notte lo dimenticai acceso, la mattina dopo, vicino al letto, trovai il macchinista con una mano al fronte che esclamò stanno a scendermi i peperoni e dall'occhio. Ma per quanto riguarda i meravigliosi giochi formativi e intelligenti, il top di gamma era il going. una pallo vale, due fili di corda, due paia di manici e tu e il tuo amico lo spingevate a vicenda. Un gioco talmente intelligente che non tutti lo capivano. state davvero che spesso dopo che ci avevi giocato un quarto d'ora col tuo amico vi fermavate, vi guardavate negli occhi e insieme esclamavate ma forse non si gioco a così. Signore, che nessuno se ne dispiace, ci sono sincero, parla sempre facile.